accessori sotto riflettori un po' di cose su questo attachment come vedete in sottofondo c'è una partita che ho giocato con il Q da niente di che è solamente per farvi vedere qualcosa mentre vi parlo di questo attachment non c'è bisogno di fare nessun test qui ve lo dico già a prescindere quali sono i valori eccetera eccetera cosa fa Canna Lunga? Canna Lunga non aumenta il danno aumenta la portata la portata si può dire che è una sorta di parametro che determina quando il proiettile farà meno danno a una certa distanza quindi Canna Lunga cosa farà? praticamente aumenterà la portata ma non aumenta tutte le portate cioè la minima, la media, la massima perché come sapete ogni arma ha un tot di proiettili per la distanza ravvicinata un tot per la media, un tot per la massima Canna Lunga varia di arma in arma passiamo subito a quelle che sono le armi comunque meno usate magari come può essere una pistola un fucile, una mitragliatrice leggera cioè mitraglioni eccetera eccetera allora per prima cosa sulle pistole, fucili mitragliatori le mitraglioni leggeri non so come chiamarli mi vengono mille nomi la machine gun, ecco viene solo in inglese è del 13% l'aumento della portata ad ogni, diciamo a ogni distanza cioè minima, media e massima aumenta del 13% per quanto riguarda i fucili a pompa che invece sono anche un'altra arma che viene utilizzata molto spesso con Canna Lunga è solamente un aumento della portata minima non della media e nemmeno della massima aumenterà solo la portata minima del 13% per quanto riguarda invece gli SMG ecco una cosa molto interessante il Long Barrel Canna Lunga diciamo non aumenta il danno minimo dell'arma cioè se l'arma da 3 colpi aumentando il range non è che ne darà 2 come era magari nei vecchi giochi che quindi aumentava la distanza in cui voi potevate uccidere aumenta solamente il danno al range minimo del 25% che è una cosa diciamo inutile perché per esempio se il Kuda che fino a 6 metri uccide con 3 colpi ucciderà in questo caso a 7,5 metri che è un incremento quasi inutile quindi salvate uno slot sugli SMG salvatelo, fatelo per me e mettete un altro accessorio fidatevi, non dico cazzate su questo sono dati oltre a questo bisogna parlare dei fucili d'assalto dove è lì che veramente cambia la storia è uno degli accessori più utili e importanti per un fucile d'assalto perché sapete cosa fa? raddoppia la portata di un fucile d'assalto vuol dire che un'arma come il Manowar che a 36 metri uccide con 3 colpi con canna lunga ucciderà con 3 colpi a 72 metri questo è uno degli accessori più importanti da utilizzare su un fucile d'assalto su un M8 per dare più one bomb per uccidere le persone con una raffica su un XR2 su qualsiasi fucile d'assalto voi usiate fidatevi e provatelo canna lunga ha veramente questo effetto spero vi sia piaciuto quest'altro video di accessori sotto i riflettori sotto i riflettori grande errore power let's go bitches